Bufera in Parigi, Fiorentina, bufera sull'ex interistacra Fachimi, che secondo le parisien sarebbe stato accusato ieri di violenza sessuale da una giovane donna presso la stazione di polizia di Nogent Sur Marne, comune a sud-ext di Parigi. Il racconto della donna stando a quanto riporta il quotidiano francese La Donna, 23 anni, avrebbe raccontato di essere entrata in contatto con il 24enne esterno marocchino del Paris Saint Germain via social a metà gennaio. Poi sabato scorso, 25 febbraio, lo avrebbe raggiunto nella sua casa a Bologna su un Uber prenotato dallo stesso calciatore. Lì le cose sarebbero sfuggite di mano e la ragazza sarebbe riuscita a scappare facendosi venire a prendere da un amico. Fachimi, che ha saltato le ultime due gare di Ligue 1 con Lille e Marsiglia per un infortunio. Si sarebbe trovato solo a casa visto che mogli e figli erano in vacanza a Dubai. virgola.